Il lavoro del rispettore in incognito comincia dall'ingresso in albergo. Morning. Morning. Ha sorriso? L'impiegato aveva un uniforme pulita e stirata? Era un 5 stelle, uno del fuori del comune. Buongiorno signora Lorenzi, sono le 8 del mattino e la temperatura esterna è di 18 gradi. Questo lavoro è per gente che non deve avere problemi di disponibilità, di mariti, di figli, di fidanzate. Sì, ho capito, sono il tuo ispettore ideale perché non ho una vita. Ma lo sai che in fondo noi abbiamo un lavoro molto simile? Sì, solo che io sto sempre qua e tu dall'altra parte del mondo. Guarda che per costruire un rapporto profondo ci vuole molto, ma molto più impegno di quello che ci metti tu. All'interno di questo display di opulenza è solo un set di stage. La reale luxurio è il piacere di una reale vita che vivere a pieno e piena di imperfezioni. Adesso che state per lasciare l'ambiente in cui avete soggiornato, prendetevi qualche secondo per ragionare su questa esperienza. Fidatevi del vostro istinto. Questo viaggio è il vostro. Sta a voi scegliere come farlo. La reale luxurio è il vostro.